Siamo con Mario Marinacci, DG del San Francesco Calcio, tra pochi giorni sfida al Real Carzoli, che gara si aspetta? Domenica alle 15, una gara abbastanza complicata, Carzoli sono anni che fa la prima categoria, squadra poi ben messa bene in campo da quello che mi ricordo all'andata e quindi poi sono veramente validi e per noi è una battaglia. Obiettivo del San Francesco, salvezza senza la lotteria dei play-out? Sì, salvezza senza la lotteria dei play-out, però dobbiamo giocarcela fino alla fine. Giovani e esperti, giusto mix quello della vostra compagine? Sì, come dicevamo prima è un giusto mix, ma è anche un giusto mix per il futuro più che altro, per gli anni a venire.